Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A12 un chilometro e mezzo di coda per lavori tra Massa e Carrara in direzione Genova a causa del tratto chiuso tra Sarzana e Carrara in entrambe le direzioni. In Fippillì un chilometro di coda per un incidente tra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno. Si ricorda che è prevista neve in A1 tra Sassomarconi e Rioveggio, tra il bivio con la variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Barberino di Mugello e in A15 tra Borgotaro e Pontremoli. Nevischio in A1 tra Rioveggio e Aglio. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Monteriggioni e Badesse in entrambe le direzioni. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto lavori tra Fivizzano e Acquabona in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info, servizio e collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!